Ho fatto tutto quello che potevo, ma lei è proprio ostinata di natura. Guardatevi sempre da lei, evitate la sua compagnia. Ah, eccola. Questa è Jane Eyre. Thornfield è una bella proprietà, forse un tantino trascurata, ma basterebbe che il signor Rochester tornasse. Chi è il signor Rochester? Credevo che a voi non piacessero i bambini. Abbiamo un'istitutrice. Le istitutrici si riconoscono senza esitazione. Sono bruttine. Ostinata ragazza. Che cosa è stato? Cercate di sbarrare molto bene la porta della vostra camera quando andate a dormire. Attenzione! Questa lettera è di tre anni fa e lui non mi ha mai scritto. Perché? Ci sono memorie penose, che forse sarà meglio dimenticare. Sei ritornata, dopo tutto. Lo avevo promesso. La promessa. Voi non ridete mai, signorina Eyre. Come fate ad essere così spietato? Io potrò essere povera e brutta, ma sono fatta di anima e carne. Questa è mia moglie. Questo è quello che voglio. Questa giovane donna che se ne sta così seria e muta davanti alla bocca dell'inferno. Marta! Fermo! Io ti amo. Di che mi ami. Io vi amo ora più che mai. Ma questa è anche l'ultima volta che ve lo dirò. Jane! Ciao!